Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusasi così in fretta. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Core. E' con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Grazie a tutti. 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 Tutto succedere, su Fred. Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Molto peggio di Arklay. Ehi! Ehi, aspetta! Siamo qui! Dannazione! Non posso crederci. Come ha fatto Confezione a propagarsi così? Fred! Stai attento! Di qua! Quanti cazzo sono. La porta sul retro! Vai! Fred! Merda! Non pensaccia adesso! Dobbiamo andarcene, Fred! Avanti, Jill. Sappiamo come finirà. No, ti prego! Siamo ancora una squadra. Certo. Allora non mandare tutto a puttane come me. Spai! Spai! Perdonate. Scusami. No, 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 no. No, no, no. L'unico posto sicuro è qui dentro. Vuole dirmi come si chiama? Non posso lasciarla qui. Sono Dario Rosso e non mi fido di te. Scommetto che vuoi solo fregarmi il rifugio. Scordatelo, dolcezza. Dolcezza. Scommetto che vedi. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Scusami. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.